Ben trovati, ospite di questa puntata speciale di Politiche d'Intorni è il senatore Ugo Grassi che ringrazio per aver accettato il nostro invito, la notizia è che da oggi, praticamente da questa mattina il senatore Ugo Grassi non fa parte più del gruppo della Lega dalla quale si è dimesso ieri ed è passato al gruppo misto Senatore, le rinnovo il ringraziamento per aver accettato il mio invito, un po' urgente visto che i fatti sono precipitati nel giro di 24 ore La cosa che volevo chiedere, ecco partire da qui proprio, ma si è trattato di un fulmine a Celsereno oppure sono dimissioni dalla Lega pensate, maturate nel tempo? Ecco partirei da qui Direttore, la ringrazio innanzitutto dell'invito Ammetto innanzitutto di essere particolarmente stanco perché la giornata di ieri è stata per me una giornata particolarmente stressante impegnativa come si può intuire, no non è un fulmine a Celsereno io da un po' di tempo avevo manifestato all'interno della Lega delle perplessità avevo notato che alcune scelte politiche a livello nazionale non andavano nella direzione che secondo me dovrebbe un partito che si dichiara di natura moderata seguire, applicare e poi anche devo dire a livello locale le cose non hanno per nulla ben funzionato quindi questi segnali da me erano stati mandati tra l'altro avevo anche chiesto al coordinatore regionale di provvedere alla mia sostituzione il mio ruolo di coordinatore provinciale a mio giudizio doveva cessare ma questa richiesta è rimasta a lungo in evasa alla fine, specialmente dopo l'ultima dichiarazione di Matteo Salvini in ordine all'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato ho ritenuto non più sostenibile la mia posizione all'interno della Lega e ho preso questa decisione finale sicuramente dolorosa per me perché dentro la Lega io lascio degli amici poi approfondiamo però una domanda che potrebbe apparirle, suonarle irriguardosa ma non la è assolutamente lei fu eletto nel Movimento 5 Stelle il 4 marzo 2018 e dopo circa un anno e mezzo, se ricordo bene, più o meno questi erano i tempi decise di lasciare il gruppo del Movimento 5 Stelle e spiegò le ragioni per cui eccetera rispetto ad una eventuale accusa probabilmente sarà accusato, tra virgolette, di trasformismo o comunque di una eccessiva mobilità politica ecco, cosa risponde? sgombriamo il campo da questo equivoco dopo parliamo dei problemi e dei motivi veri che l'hanno indotta beh, allora, iniziamo col dire una cosa perché voglio essere molto leale con gli elettori cambiare partito non è una bella cosa io di questo mi rendo conto però il trasformismo si ha allorquando il politico cambia partito perché cerca una nuova candidatura e io ne ho visti di colleghi cambiare partito per questo scopo io non cerco candidature tra l'altro approdare al misto significa molto probabilmente non ricandidarsi tra l'altro io allo Stato ritengo che non sussistano le condizioni affinché io mi possa ricandidare se esistesse nel vocabolario dei sinonimi e dei contrari un termine contrario al trasformismo io userei quello per definire le mie scelte io ho soltanto cercato sin dall'inizio di dare un contenuto al mio mandato io fui eletto sulla base di accordi politici ben precisi l'accordo politico soprattutto riguardava il mondo della cultura e delle università io come professore universitario da sempre ricordiamolo per chi non lo sapesse il senatore Ugo Grassi è ordinario di diritto civile alla università partelope cioè campa di suo diciamocelo campo di mio e campavo anche bene perché tra l'altro ero direttore del dipartimento quindi avevo un ruolo apicale anche importante io da tempo denuncio ciò che l'ANVUR l'Agenzia Nazionale Valutazione Università di Ricerca sta facendo all'università italiana sta arrecando dei danni all'università italiana e quello che le persone non sanno perché ormai in questo paese le vere scelte politiche sono nascoste dietro una montagna di burocrazia è che l'ANVUR con i suoi criteri di valutazione con i suoi parametri di valutazione sta spostando risorse dal sud al nord e devo dirlo questo non è il risultato di scelte della Lega ma è il risultato di scelte dietro le quinte del Partito Democratico io da tempo andavo denunciando questo problema nei 5 Stelle trovai apparentemente ascolto e quindi la mia candidatura fu fondata su questi presupposti io mi candido e punterò sul riordino dell'università a tutto vantaggio dell'università tutta e dell'università del meridione ovviamente le cose sono andate in modo ben diverso l'abbiamo visto quasi tutti i professionisti gli imprenditori gli intellettuali candidati dal Movimento 5 Stelle se ne sono andati perché siamo stati utilizzati siamo stati degli utili idioti quando ti accorgi che il partito col quale speravi di poter realizzare dei contenuti non ti dà quella possibilità ti guardi intorno perché ti fa rabbia l'idea di essere arrivato al Parlamento e di non riuscire a segnare neanche un gol io poi magari se ho tempo dirò anche quali sono i piccoli e marginali risultati che sono riuscito a raggiungere a quel punto mi sono guardato intorno io ritengo che il PD in questo momento non sia un partito a cui io possa rivolgere la mia attenzione non credo che sia il PD e non lo sarà certamente in futuro perché io imputo al PD la situazione attuale il PD ha messo in piedi un apparato iper burocratico vive in simbiosi con l'apparato burocratico ministeriale il quale poi per garantire la sua sopravvivenza produce una normazione caotica ed incomprensibile quindi PD e burocrazia ministeriale sono in realtà un unico sistema di potere di natura simbiotica io sono sostanzialmente un uomo di centro questo l'ho sempre rivendicato se fossimo negli anni 70 io appartenrei ad una corrente moderata di destra della democrazia cristiana questa è la verità e questo non l'ho mai nascosto a quel punto dovendo lasciare i 5 Stelle e dovendo trovare il modo di portare a casa dei risultati per il mio territorio dove ho scelto di vivere e che amo dove ho fatto nascere mia figlia ho individuato nella Lega il partito più adatto a consentirmi di portare a casa questi risultati ecco perché è rimasto poi deluso nelle motivazioni che lei dà abbiamo letto il suo comunicato stampa la lettera che ha inviato ai vertici della Lega lei imputa alla Lega essenzialmente due grossi rilievi critici il primo sui vaccini il secondo sulla guerra mi pare che quello sulla guerra sia stata poi la goccia classica che ha fatto traboccare il vaso ecco partiamo da qui perché poi vorrei farle qualche domanda anche sul passato cioè sui 5 Stelle perché il ricordo di un'altra intervista che le ho fatto vorrebbe dire in continuità con quell'intervista se ha cambiato opinione o meno allora Matteo Salvini da tempo sostiene, afferma la necessità di dar vita ad una sorta di nuovo partito repubblicano un partito moderato conservatore similare per esempio ai partiti di centrodestra degli Stati Uniti o dell'Inghilterra il problema è che poi questa dichiarazione non viene riempita di contenuti l'esempio dei vaccini secondo me è un esempio calzante e tra l'altro sui vaccini si è giocata una partita politica importantissima partiamo da un assunto io figlio di medico credo fermamente nei vaccini e sono assolutamente persuaso che senza i vaccini noi non saremmo tornati ad una vita normale si è vaccinato io sono vaccinato posso testimoniarlo perché diversamente in questo studio ho fatto tre dosi tra l'altro ho trovato insopportabile che sui social giravano da parte dei Novax le voci secondo cui i politici facevano finta di vaccinarsi io mi sono vaccinato mi sono vaccinato tre volte mi sono vaccinato subito anzi mi sarei potuto vaccinare subito utilizzando la qualifica di professore universitario non lo feci per evitare polemiche perché all'inizio si diceva che poi qualche politico cercava di scavalcare la fila quindi ho aspettato il mio turno come i cinquantenni ho fatto la prima dose il primo maggio la seconda dose a fine maggio e la terza dose è arrivata a memoria intorno a novembre circa un mese fa ho anche avuto il covid ho avuto in realtà il covid a modi normale forma influenzale un po' di mal di gola non ho avuto neanche febbre nel giro di una settimana si è risolto i dati statistici dicono che persone come me possono affrontare il covid senza particolari rischi grazie ai vaccini quindi io sono assolutamente a favore dei vaccini perché Salvini ha sbagliato sui vaccini? allora partiamo dai dati scientifici io sin dall'inizio ho saltato a più e pari tutte le comunicazioni dei giornali tutte le comunicazioni degli scienziati star e sono andato a leggere direttamente gli articoli scientifici online pubblicati in inglese su riviste come Nature The Lancet British Medical Journal e così via ora sin dall'inizio questi articoli spiegavano che per raggiungere una non immunità di greggio perché in realtà di questo non si è mai realmente parlato a livello scientifico per raggiungere un adeguato livello di protezione e di gestibilità sanitaria della pandemia doveva vaccinarsi l'80% della popolazione vaccinabile quindi questo è un target che volente o nolente bisognava raggiungere il trend era in crescita fino a maggio giugno dell'anno scorso quando a un certo punto il PD decide di introdurre il Green Pass ora il Green Pass tecnicamente è un obbrobio giuridico è un caos normativo tanto per dire ad un certo punto noi avevamo la bellezza di ben sei diversi Green Pass se calcoliamo che le regioni potevano raggiungere ricevere tre diversi colori come attribuzione potenzialmente sul tappeto vi erano diversi 18 diversi schemi di comportamento da imporre ai cittadini capite bene che in questo modo non si capisce niente il Green Pass era un obbligo sul rettizio è un obbligo sul rettizio tra l'altro con l'aggravante che non veniva messo per iscritto che la sussistenza di un obbligo sul rettizio già secondo corte costituzionale determina l'applicazione della legge sugli indennizi per danni da vaccini e demoderivati dov'è la contraddizione con l'attentimento di San Vini? ho fatto questa premessa noi stiamo in un governo col PD che decide di mettere in piedi questo mostro giuridico però nello stesso tempo continuiamo a rivendicare la libertà vaccinale rivendichiamo la libertà vaccinale però votiamo questi decreti assurdi allora se tu entri nel governo e cerchi di porre un freno in qualche caso ci sono anche riusciti ma in misura marginale agli eccessi burocratici del PD tu devi rilanciare con una controproposta e devi rilanciare con una controproposta che sia convincente per quel ceto moderato a cui tu dici di volerti rivolgere e allora a questo punto l'ho scritto nel comunicato proponi per esempio un obbligo vaccinale che sia tale senza creare questa gran confusione col green pass con la scannerizzazione magari con sanzioni pecuniarie crescenti e lo introduci a partire da una certa fascia d'età per esempio parti con gli over 60 e vedi come va abbiamo molti argomenti dove parlare ancora quindi ecco succhera questo non si è partito moderato se alla fine non si mettono sul tappeto delle proposte convincenti per l'elettorato moderato sulla guerra dov'è l'ambiguità di Salvini? Lei è putiniano? Assolutamente no certo che no io sono attantista Salvini ha dato l'impressione di essere quantomeno un po' simpatizzante io l'ho anche scritto è chiaro che questo è un quadro molto complesso per noi cittadini è difficile farsi un'idea chiara perché noi non sappiamo esattamente dietro le quinte cosa sta accadendo la vera diplomazia non viene portata ad emersione la vera diplomazia sta lavorando dietro le quinte e noi non siamo in grado di conoscere lo stato delle trattative per esempio noi non sappiamo se alla fine ad oggi Putin sia assolutamente determinato a non accettare nessuna mediazione perché se l'avversario in realtà è sordo ad ogni proposta è chiaro che tu dall'altra parte non puoi insistere con proposte diplomatiche perché hai di fronte un sordo questo noi non lo sappiamo però sappiamo una cosa sappiamo che c'è un aggressore e sappiamo che c'è un aggredito e questo è un primo dato importante ora dovrebbe anche essere un dato sufficiente o no? lo è lo è ma adesso è un dato non solo sufficiente ma anche suffragrato da prove perché se Svezia e Finlandia storicamente nazioni neutrali decidono di aderire alla Nato vuol dire che quei due popoli che conoscono bene il loro vicino c'è un'intervista oggi alla giovanissima premier finlandese decidono di aderire alla Nato vuol dire che evidentemente la Russia sta diventando un pericolo quindi quando tu senti Svezia e Finlandia chiedere di entrare alla Nato non puoi come prima dichiarazione dire non mi sembra opportuno perché in questo momento tu stai sostanzialmente assumendo una posizione del tutto ambigua è stato l'atteggiamento di Salvini nei confronti della richiesta della Finlandia di aderire alla Nato la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato questo che la spinta diciamo che questa mi è persa una posizione davvero inaccettabile tra l'altro smentita poi dallo stesso Putin perché qualche giorno dopo Putin ha corretto il tiro ha detto non siamo contrari all'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato purché lì non vengano installate basi militari affermazione tutto sommato ragionevole però è evidente che se Putin manifesta un disagio e tu Salvini immediatamente sostieni questa posizione che tra l'altro si ritrova in contrasto con quello che il governo italiano sta facendo e sta scegliendo tu stai riproponendo lo stesso modello contraddittorio contraddittorio che hai proposto per i vaccini allora il punto al di là delle critiche perché all'interno di un partito queste posizioni si possono anche correggere al di là delle critiche è evidente che ad un certo punto non sono riusciti a dare un contenuto moderato di centro alle posizioni della Lega io a quel punto ho tratto le mie conclusioni ma attenzione il problema non è solo nazionale c'erano anche dei problemi a livello locale io ho trovato una Lega fortemente divisa ecco ricordiamo che lei è stato eletto in questo collegio è stato eletto nel collegio di Avellino Ariano Irpino quindi è senatore di questo collegio è il mio territorio sì io sono stato eletto in questo collegio che cosa non ha funzionato della Lega almeno di quello che lei aveva immaginato del partito della Lega in questa provincia allora la Lega qui veniva da un periodo traumatico sappiamo bene le vicende la elezione di Damiano Genovese al Comune conosciamo la storia la Lega per un certo tempo è stata commissariata ma malgrado l'arrivo del commissario che mi avevano garantito avrebbe pacificato il territorio quando il commissario è giunto al termine del suo mandato la divisione interna della Lega continuava a permanere a questo punto mi proposero di assumere il ruolo di coordinatore sperando che la mia figura potesse fungere da collante tra queste diverse anime della Lega perché nella Lega Irpina c'è un'anima più fortemente centrista e poi c'è un'anima che possiamo dire un po' più di destra va tanto per intenderci in realtà questi due aspetti non vanno assolutamente d'accordo questi due gruppi non riescono a dialogare il mio ruolo di coordinatore serviva appunto a far dialogare questi gruppi io non ci sono riuscito lo ammetto non solo non ci sono riuscito ma poiché sin all'inizio sono stato in viso ad una parte della Lega questo stato di tensione ha scoraggiato l'ingresso di nuovi ministratori della Lega Irpina della Lega Irpina cioè la Lega Irpina è che si dice per essere chiari in qualche modo beh non solo insomma c'è un po' di tutto all'attento io poi non voglio fare nomi perché detesto poi fare non nomi i nomi parliamo di area ma nella Lega Irpina ci sta qualcosa che viene dalla DC qualcosa che viene da ambienti un po' più di destra c'è un po' di tutto c'era un po' di tutto fatto sta che a un certo punto io non sono riuscito a svolgere quel ruolo di collante ho avvertito il coordinatore regionale della necessità di sostituirmi ecco poi la ragione per cui sono partite certe voci ma il coordinatore preferì non accogliere la mia richiesta ma ad un certo punto quando tu vai a sommare i problemi politici nazionali con i problemi politici locali devi tirare le somme arriva un momento in cui devi prendere una decisione anche perché ti accorgi che non riesci a portare a casa quasi nulla a questo punto il misto vista la situazione della nostra regione tutta quindi non parlo solo dell'Irpina ma anche della Campania potrebbe essere la soluzione adatta a farmi svolgere un ruolo di mediazione tra le diverse forze politiche in questo momento sono libero di parlare sia con De Luca sia con i 5 Stelle sia con Fratelli d'Italia senza che nessuno possa sospettare che io agisca per un mio interesse personale perché io allo Stato non ho alcuna prospettiva restiamo un pochettino in questo ambito abbiamo pochissimi minuti a disposizione su quali materie lei ritiene che un senatore comunque un politico di questa provincia di questa regione se vuole debba impegnarsi fino in fondo anche con l'opera di mediazione tra le diverse forze politiche per raggiungere dei risultati perché qui si abbaia alla luna i problemi restano poi irrisolti due aspetti trasporti io sui trasporti ho molto lavorato ho difeso a suo tempo e ci sono riuscito il mantenimento della stazione Irpinia e ho presentato poi all'ultima legge di stabilità ben quattro emendamenti per consentire il congiungimento della linea regionale in corso di elettrificazione ad opera della regione con tempi biblici il congiungimento della linea regionale con le due grandi direttrici ad alta velocità alta capacità quella che va da costa a costa quindi la Napoli-Bari oppure quella che va da sud al nord cioè quella che parte da Salerno e sale fino a Milano questi quattro raccordi ferroviari avrebbero consentito di creare una sorta di metropolitana regionale quindi noi avremmo potuto prendere certamente non domani non dopodomani ma tra qualche anno il treno ad Avellino e in 40 minuti raggiungere la stazione di Napoli e da là magari scegliere altri treni questi quattro emendamenti richiedevano un impegno di spesa di 220 milioni di euro che se parliamo di opere pubbliche è evidente non è una somma particolarmente elevata specialmente riferito al PNR certo ecco io l'ho presentata alla legge di stabilità e al momento dell'approvazione della votazione della legge di stabilità abbiamo scoperto che ai gruppi parlamentari erano stati assegnati solo 35 milioni di euro cioè in pratica fatte le dovute proporzioni visto che parliamo di attività dello Stato è come se ad ogni gruppo parlamentare avessero offerto un cornetto e un caffè sostanzialmente è umiliante è chiaro che se i miei emendamenti costano 220 milioni di euro e al gruppo parlamentare ne sono riservati 35 non si va da nessuna parte PNRR il PNRR sta viaggiando in una specie di peruraneo normativo ed è molto difficile capire come far entrare delle proposte operative all'interno del PNRR certamente possono farlo gli enti locali però vedo che gli enti locali non si riescono a raccordare tra loro bene fece il precedente presidente della provincia a creare un tavolo di coordinamento non ho notizia dell'ulteriore esito del tavolo di coordinamento però certamente gli enti locali devono in qualche modo fare massa critica per poter portare avanti all'interno del PNRR dei progetti comuni i trasporti sono decisivi da un lato i trasporti e dall'altro bisogna incentivare il mantenimento della popolazione sul territorio perché noi possiamo mettere anche uno space shuttle qui ad Avellino ma se non c'è nessuno che permette l'atterraggio dello space shuttle l'investimento non serve due anni e mezzo fa quando l'ho intervistata sono passati due anni e mezzo quando lei lasciò il Movimento 5 Stelle tra le altre cose che ricordo con certezza matematica e anche con grande lucidità lei disse testualmente questo Movimento 5 Stelle non ha futuro alla domanda perché è rimasto deluso non ha futuro sono passati due anni e mezzo rispetto a due anni e mezzo fa la sua opinione è cambiata oppure i fatti anche i fatti attuali le stanno dando ragione ma mi pare che la mia affermazione due anni fa dimostra che io ho buone doti da preveggente perché il Movimento è evidente che non ha futuro il Movimento ormai è spaccato e diviso al suo interno è incapace di portare avanti una proposta politica concreta perché il Movimento ha perduto le persone in grado di dare un contenuto politico in termini di programmi e proposte il Movimento era partito come uno tsunami popolare ad un certo punto ha fatto credere al ceto medio al ceto degli intellettuali di aver bisogno di forze fresche per dare struttura e contenuto allo Movimento stesso nel momento in cui noi siamo stati usati solo per far diventare Luigi Di Maio Ministro degli Esteri è chiaro che il Movimento inizia un declino infatti gli ultimi sondaggi lo danno al 13% e la mia impressione è che questi sondaggi non sono veritieri servono a mantenere insieme quel poco che rimane del Movimento perché ovviamente se si viene a sapere che per esempio stanno al 7% c'è il rischio di una totale diaspora quindi probabilmente sono numeri che vengono dati ancora ancora per consentire al Movimento di rimanere attaccato alla canna d'ossigeno la mia previsione è che arriveranno alle elezioni e prenderanno meno del 10% qual è il grosso rischio lo voglio anticipare della futura legislatura a parte il taglio dei parlamentari ti stavo appunto per chiederle le proprie inchiusure perché manca un minuto e mezzo la domanda è questa se posso profittare della sua utilizzare la sua bonaria autoironia a proposito della preveggenza ecco per come stanno le cose per il gran casino mi lasci passare il termine in cui ci ritroviamo con la politica italiana che cosa prevede per la prossima legislatura una potenziale ingovernabilità perché c'è il forte rischio che né il centrodestra né il centrosinistra raggiungano i numeri sufficienti per riuscire a formare da soli un governo per cui potrebbero diventare dirimenti i piccoli partiti con numeri esigui diciamo intorno al 10% sotto il 10% ancora con l'ancora Draghi? questo io non sono in grado di dirlo io non sono in grado di prevedere quale saranno le scelte di Mario Draghi è una persona di estrema competenza ma quelle saranno di Mattarella? prego saranno scelte di Mattarella essenzialmente questo non c'è dubbio il Presidente con un paese senza numeri netti certi però intanto non può essere il Presidente a formare la maggioranza semmai il Presidente può svolgere una moral suasion per cercare di trovare una maggioranza il punto è con chi fare questa maggioranza se il centrodestra non avrà i numeri e il centrosinistra non avrà i numeri chi deciderà poi le sorti del paese allora qui io spero ma lo dico da cittadino e non da futuro candidato che la galassia dei centristi perché gli orfani della democrazia cristiana sono ancora vivi e sono ancora in giro e cercano casa io mi auguro che questa nebulosa centrista si riesca ad aggregare in maniera da raggiungere una massa critica sufficiente per poter poi decidere le sorti del futuro governo senatore dieci secondi davvero dieci secondi per il mandato che lei ha ricevuto dagli elettori oggi si sente in qualche modo a disagio o ritiene di aver rispettato il mandato fino in mondo in tutta coscienza e consapevolezza sono a disagio ma sono in pace con la mia coscienza io ho fatto tutto quello che potevo fare ho sacrificato la mia vita professionale anche se la gente crede che questa sia una poltrona comoda io ho un danno serio perché per esempio la mia produzione scientifica in questo momento ha una consistente lacuna perché in questi anni sono riuscito a scrivere solo un articolo e noi professori universitari veniamo continuamente valutati ed è un danno che mi porterò avanti negli anni mi sono speso al massimo delle mie capacità ho sacrificato anche la mia famiglia quindi io sono in pace con la mia coscienza sono deluso perché ho ottenuto un millesimo dei risultati che avrei potuto ottenere grazie al senatore Ugo Grassi per essere stato con noi grazie a voi e arrivederci con la prossima puntata di Politica e dintorni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti